Esiste un posto magico, dove il suono del mare accarezza le montagne, dove la bellezza di una natura incontaminata incontra segni lasciati da popoli antichi, dove la tradizione e il presente si fondono in un equilibrio perfetto. La vita scorre lentamente, ma le emozioni viaggiano al ritmo del cuore. Una regione tra storia e sogno, tutto da scoprire. Molise, autentiche emozioni.